Questo Ramadan vi abbiamo chiesto di essere un corpo solo. E così è stato. Le vostre donazioni hanno sfamato più di un milione di persone nel mondo. Subhanallah. Vi abbiamo chiesto di sentire la sofferenza dei bisognosi. E così è stato. Dal Myanmar al Malawi e in tutto il mondo. Vi abbiamo chiesto di donare. E anche in questi tempi incerti l'avete fatto. Più che mai. I nostri team sono sul posto. Ora. Per implementare i progetti grazie alle vostre donazioni. Che non aiutano solo le persone in stato di povertà. Ma le aiutano ad uscire dalla povertà. Per sempre. Grazie ad ognuno di voi. A chi ha donato o fatto volontariato. Grazie. Possiamo continuare il nostro lavoro. Solo grazie alla vostra generosità ed umanità. Quest'anno avete dimostrato al mondo che siamo una cosa sola. Se volete rimanere aggiornati su come vengono usate le vostre donazioni. Registratevi ora sul nostro sito. Grazie. 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 Grazie.